Finalmente è stata un'annata ottima, usiamo proprio il termine ottima, sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista di qualità del prodotto raccolto. Quali sono le superfici in provincia di Ferrara coltivate a mais? Noi stimiamo che in primavera le superfici seminate siano state incrementate del 20% sull'anno prima, quindi abbiamo passato i 40.000 ettari di superficie investita. Investita principalmente con dei cicli di mais medio-lunghi, quindi classe 5-600, soprattutto anche 700, proprio per puntare alla produzione e questo è stata per quest'anno la sorpresa positiva alle produzioni. Qual è stata la produzione media ferrarese? Noi pensiamo che la produzione media ci sia stato un incremento del 15% di produzione, quindi si trovi attorno a 115-118 quintali di secco per ettaro. Questa è la produzione che noi andiamo a stimare. Abbiamo avuto ottime rese sia nelle culture seccagne, quindi senza irrigazione, sia soprattutto dove abbiamo irrigato. Frequentemente quest'anno dove si è fatto irrigazione abbiamo fatto 150 quintali di secco e anche più, quindi la produzione è stata veramente ottima. E la produzione fra le culture erbacea e ferrare è stata la produzione regina. E la qualità? La qualità è stata ottima anche lì, nonostante l'andamento stagionale caldo, pensavamo a un certo punto di correre i rischi dal punto di vista delle micotossine, invece le analisi danno tutta assoluta tranquillità e quindi qualità ottima, prodotto ottimo e soprattutto dal punto di vista sanitario siamo ok. Possiamo fare una lettura dell'andamento di mercato del mais rispetto agli altri cereali, come è andato? Certamente il mais è, come ho detto prima, la cultura regina perché ha soddisfatto in produzione più di quello che si pensava. L'andamento stagionale si potava avere dei dubbi sulla produzione, invece le semine fatte a tempo debito, l'abbassamento di temperatura di luglio, quello è stato il grande punto a favore che ha anche fatto sì che ci sia stato un basso attacco di pirata in quel periodo, ha fatto sì che la pianta, quando è arrivato il grande caldo di agosto, era a ciclo completo, a ciclo chiuso e ci siamo trovate delle produzioni eccezionali. C'è da dire che stiamo dedicando a Ferrara i terreni sempre più adatti, sempre più si fa una tecnica culturale adeguata, anche con un maggior rapporto, un maggior numero di aziende che irrigano e un maggior numero di aziende che fanno il trattamento pirata. Quindi l'insieme delle cose quest'anno ci ha sorpreso favorevolmente con produzioni eccezionali. Rispetto a grano e a soia com'è andata? Rispetto a grano e a soia diciamo che sicuramente il mais fa la sua parte, pensiamo che le quotazioni di Bologna di luglio dell'anno scorso avevano mais a 16 euro o poco meno, oggi abbiamo superato i 20, in questo momento chiaramente di forti produzioni, magazzini pieni, il nord Italia che sta ancora trebbiando c'è un attimo di flessione, però il mercato è visto positivamente, quindi fra i 19 e i 20 dovremmo rimanere con speranze che più avanti possa riprendere, perché negli Stati Uniti l'andamento stagionale invece è stato sfavorevole alla cultura del mais e inoltre ci sarà un maggior utilizzo di mais per bioetanolo perché in Brasile la canna da zucchero verrà utilizzata non da bioetanolo, quindi torno a dire gli Stati Uniti non dovrebbero fare esportazioni di mais e quindi questo dovrebbe favorire i prezzi. L'unica incognita rimane la crisi che ci auguriamo tutti sia meno pesante di quello che pensiamo in riferimento ai consumi. Quanta parte del nostro mais viene destinato a bioenergie? Noi stimiamo un 15%, un 15% delle superficie investite sono andate a bioenergie per gli impianti, diciamo a biogas. Incrementerà anche nei prossimi anni perché alcune domande per nuovi impianti in provincia di Ferrara stanno dando a buon fine e quindi l'anno prossimo avremo un ulteriore aumento di mais che verrà usato da trinciato per biomasse. E invece le superfici di mais più in generale aumenteranno il prossimo anno? Dico proprio di sì, diciamo che l'azienda agricola è sempre molto influenzata dalle produzioni, a volte più che ai prezzi perché i prezzi spesso sono legati a fattori e sono molto valati, le produzioni in genere rincuorano molto quindi sicuramente le aziende agricole investiranno fortemente a mais e il mais crescerà ancora nella primavera prossima, 2012 anche perché c'è una cultura invece che è stata sfavorita nell'andamento stagionale che è la soia. Soia a fine luglio si presentava bene, il caldo di agosto invece non si sono ingrossati i baccelli, la pianta si è fermata e abbiamo un caldo di produzione della soia dell'ordine al 30% quindi le carte giocano tutte a favore di mais, terrà la superficie grano, speriamo in un andamento stagionale-autunale non come l'anno scorso, quindi si lascia seminare tranquillamente, però penso che il grano rimarrà sulle superfici dell'anno scorso quindi globalmente attorno a quei 40.000 ettari, mentre il mais secondo me potrà prendersi altri 5-6.000 ettari. Non si rischia però un esubero di produzione e quindi prezzi più bassi? Diciamo che il mercato è mondiale e indubbiamente a livello nazionale la spinta può farci pensare questo però ormai i prezzi poi sono dettati da fatti internazionali quindi dipenderà molto anche da cosa succede negli altri paesi comunitari, Europa e America, quindi diciamo se la tecnica culturale facciamo bene se produciamo è già un passo molto avanti, i prezzi sappiamo che sono legati a molti altri fattori. Grazie